se analizziamo un essere umano constatiamo che i quattro eteri che lo compenetrano chimico vitale luminoso riflettore sono dinamicamente attivi nel corpo vitale altamente organizzato grazie all'azione dell'etere chimico l'uomo è capace di assimilare il nutrimento e di crescere le forze che agiscono nell'etere vitale gli consentono di riprodursi quelle dell'etere luminoso forniscono calore al corpo denso sistema nervoso e muscoli aprendo in tal modo le vie di comunicazione con il mondo esterno tramite gli organi di senso quanto all'etere riflettore esso permette allo spirito di dirigere i suoi veicoli per mezzo del pensiero questo etere immagazzina inoltre le esperienze che facciamo sotto forma di memoria lettere chimico e lettere vitale formano la matrice del corpo fisico ogni molecola del corpo è rivestita di un involucro eterico che l'impregna e la vivifica tramite questi eteri le funzioni organiche come la respirazione eccetera avvengono regolarmente la densità e la consistenza di questa matrice eterica determinano il nostro stato di salute gli atomi dell'etere chimico e dell'etere vitale riuniti attorno all'atomo germe del corpo vitale situato nel plesso solare presentano forma prismatica essi sono sistemati in modo tale che quando l'energia solare penetra entro il corpo attraverso la milza il raggio che ne viene riflesso è quello rosso questo colore è quello dell'aspetto creativo della trinità cioè di geova lo spirito santo che governa la luna pianeta della fecondazione per questo motivo il fluido vitale solare che entra nel corpo umano attraverso la milza si tinge del colore rosa pallido che spesso è notato dai chiaroveggenti quando circola lungo i nervi così come la corrente elettrica passa lungo i fili di un impianto elettrico così caricati lettere chimico e lettere vitale assicurano la funzione dell'assimilazione che conserva in vita l'individuo e anche della riproduzione che perpetua il genere umano durante la vita ciascun atomo vitale prismatico penetra entro un atomo fisico e lo fa vibrare per farci un'idea di questa intima unione immaginiamoci la figura di un cestino a forma di pera formato da fili metallici avvolti a spirale che corrono verticalmente da polo a polo così è l'atomo fisico che ha forma vagamente rassomigliante a quella della terra l'atomo vitale prismatico è inserito alla sommità più larga che corrisponde al polo nord del nostro globo e la punta del prisma penetra così entro l'atomo fisico fino al punto più stretto che corrisponde al polo sud tutto il complesso rassomiglia ad una trottola in movimento ed è in questo modo che il nostro corpo viene vivificato e reso capace di movimento l'ettere luminoso e l'ettere riflettore sono le vie di accesso della coscienza e della memoria presso l'individuo medio sono un poco attenuati e non hanno una forma definita come l'aria penetra in una spugna così essi compenetrano l'atomo fisico e vi formano attorno una leggera atmosfera aurica la scienza fisica ha scoperto che gli atomi fisici del nostro corpo denso subiscono dei cambiamenti permanenti in modo che i materiali componenti il nostro corpo fisico spariscono nel giro di qualche anno tuttavia sappiamo che le cicatrici e le altre manifestazioni accidentali che possono colpire il nostro corpo in qualsiasi momento della vita durano fino alla morte la ragione sta nel fatto che gli atomi eterici prismatici che compongono il corpo vitale sono permanenti ed inamovibili restano nella parte del corpo che occupano fin dall'inizio ciò significa che gli atomi eterici che fanno vibrare quelli fisici dalle dita del piede per esempio non si trasferiscono alle mani alle gambe o in un'altra parte del corpo ma restano esattamente al loro punto iniziale una lesione che colpisca gli atomi fisici si ripercuote sugli atomi prismatici eterici corrispondenti e l'impressione in modo definitivo la materia che nuovamente si forma si modella esattamente sugli stessi riproducendo la forma e la struttura precedente queste norme si applicano solo agli atomi prismatici corrispondenti ai solidi e ai liquidi del mondo fisico perché assumono una forma definita e stabile inoltre gli esseri umani nell'attuale stato evolutivo posseggono tutti nel corpo vitale una quantità più o meno grande di etere luminoso e di etere riflettore i quali sono veicoli l'uno delle percezioni sensorie e l'altro della memoria si può dire che l'etere luminoso corrisponde ai gas del nostro mondo fisico forse la migliore definizione che può essere data dell'etere riflettore è quella di ipereterico è una sostanza sottilissima bluastra simile al centro di una fiammella di gas è trasparente lascia sembra vedere tutto quello che contiene pertanto racchiude tutti i segreti della natura e del genere umano è in essa che è registrata a buona parte degli archivi della memoria della natura l'etere luminoso e l'etere riflettore sono di natura prettamente opposta a quella degli atomi di etere prismatici stazionari questi due eteri luminoso e riflettore sono volatili e migratori qualunque sia la quantità di questi eteri che l'uomo possiede bisogna considerarli come un accrescimento frutto di esperienze di vita è una sostanza che nell'interno del corpo si mescola alla corrente sanguigna quando con persistenti sforzi di altruismo e di sacrificio sviluppiamo alla scuola della vita una quantità sufficiente di sostanza tale che superi il nostro corpo fisico allora appare alla periferia sotto i colori oro e azzurro è il nostro corpo anima che comincia a nascere l'azzurro indica l'essere più elevato spiritualmente ed è perciò di volume minore e lo si può paragonare al centro azzurro della fiammella di gas mentre la tinta dorata ne costituisce la parte maggiore e corrisponde alla luce gialla che circonda il centro questo colore azzurro non appare all'esterno del corpo dell'uomo comune ma solo nei più grandi santi tuttavia si può anche scorgere una reola dorata circondare la testa di molte persone al momento della morte il panorama della vita che è inciso sull'ettere riflettore del corpo vitale viene trasportato sul corpo del desiderio la quintessenza delle nostre esperienze passate si imprime alla fine sull'atomo germe ove costituisce la coscienza che ci inciterà ad evitare il male e a praticare il bene nella vita futura dunque vediamo che da una vita all'altra la qualità dell'atomo germe si modifica la quintessenza del bene estratta dalla parte mobile migratoria del corpo vitale di una vita determina la qualità degli atomi eterici prismatici della vita seguente quella che è stata la parte migliore più elevata di un'esistenza costituirà la base della vita successiva ed è così che a poco a poco saliamo la scala dell'evoluzione che ci conduce verso dio dopo quanto sopra è evidente che il corpo vitale è il veicolo delle abitudini i genitori sanno che durante i primi sette anni quando questo veicolo è in corso di sviluppo i bambini prendono a poco a poco delle abitudini la ripetizione è infatti la chiave maestra del corpo vitale e le abitudini si creano mediante la ripetizione altrettanto avviene col corpo del desiderio veicolo dei sentimenti e delle emozioni che subiscono cambiamenti continui sebbene si sia detto che l'etere che forma il nostro corpo anima è incessantemente in movimento e si mescola alla circolazione del sangue è relativamente lento se paragonato ai rapidi movimenti del corpo del desiderio lo si può paragonare al movimento della lumaca confrontato con la velocità della luce quando l'ego è in via di reincarnazione scende nella regione del pensiero concreto poi in quella del mondo del desiderio e nella regione eterica attraverso ciascuna regione raccoglie una certa quantità di materia la qualità di tale materia è determinata dall'atomo germe secondo la legge di affinità per cui i simili si attirano la quantità dipende dalle esigenze dell'archetipo che ci siamo costruiti nel secondo cielo gli angeli di giustizia costruiscono una determinata forma eterica secondo la quantità di eteri prismatici raccolta dall'ego questa forma messa nel seno della madre si riveste gradualmente di materia fisica che formerà il corpo visibile del neonato solo una piccola parte dell'etere raccolta dall'ego viene così immediatamente impiegata il resto di tale sostanza che si trova all'interno del corpo denso del bambino è al di fuori del corpo fisico il corpo vitale in formazione del bambino supera il corpo fisico assai più di quello che non faccia nell'adulto durante il periodo di crescita rapida questa provvista di atomi eterici viene progressivamente usata per vitalizzare le parti dense via via che vengono elaborate la taglia normale è raggiunta nell'età adulta e il corpo vitale supera la periferia del corpo denso di non oltre due o tre centimetri la scuola della sapienza occidentale pone come postulato che ogni sviluppo occulto inizi dal corpo vitale la parte di questo corpo formata dai due eteri superiori etere luminoso ed etere riflettore è ciò che si è convenuto chiamare il corpo anima questa parte è strettamente legata al corpo del desiderio e all'intelletto e può essere più facilmente messa a contatto dello spirito che non i due eteri inferiori essa è il veicolo dell'intelligenza è da questa che dipende il fare di noi degli uomini delle donne nel senso più alto della parola le nostre osservazioni le nostre aspirazioni la nostra personalità sono dovute all'azione che esercita lo spirito su questi eteri superiori che diventano più o meno luminosi a seconda della natura della nostra personalità e delle nostre abitudini come il corpo denso assimila il nutrimento e cresce così i due eteri superiori assorbono le buone azioni della nostra vita e si sviluppano in volume a seconda di come agiamo durante la presente esistenza aumentiamo o diminuiamo ciò che abbiamo portato con noi alla nascita è la ragione per la quale gli insegnamenti della sapienza occidentale mettono in risalto il fatto che ogni sviluppo mistico comincia dal corpo vitale ok